Mi chiamo Marco Rossetto e sono responsabile di ricerca e sviluppo di Fratelli Rossetto Sarelle di Trebaseleghe. Siamo un'azienda leader che dal 1957 si occupa di stampaggio di poliaretano per il settore dell'arredamento, in particolar modo per il mondo del contract, dalle piccole zone lounge alle grandi catene dell'otelleria. Consapevoli della nostra storia e della nostra lunga tradizione in questo business, uniamo l'esperienza maturata allo spirito innovativo della mia generazione, la terza, con un obiettivo chiaro e unico in mente, il miglioramento continuo. La Fratelli Rossetto si estende su una superficie di 40.000 m2 di cui 20.000 coperti e impiega oltre 200 persone dislocate in otto diversi dipartimenti produttivi, esportando il proprio know-how e il buon gusto per il design italiano in tutti e cinque i continenti. Quando sono minuto a conoscenza dell'esistenza di una piattaforma in cloud che si potesse connettere al CAD 3D di SOLIDWORKS, ho pensato che fosse la soluzione innovativa e ideale per fronteggiare tutta una serie di problematiche che affliggono le diverse aree del flow progettuale e produttivo della mia azienda. I progettisti hanno accolto 3D Experience Platform con entusiasmo, finalmente perché hanno potuto operare dovunque e con serenità in un ambiente in grado di restituire sempre dati aggiornati e revisionati, collaborare e condividere tra loro file in maniera semplice e rapida, il tutto all'interno di un unico spazio di lavoro. Sono Alberto Volpato, IT Manager dell'azienda Fratelli Rossetto. Il percorso che ci ha portato alla scelta della 3D Experience nasce dalla necessità di risolvere criticità soprattutto legate alla non corretta gestione delle informazioni aziendali. Per anni infatti è sempre stato sottovalutato l'impatto negativo nell'avere informazioni di rilievo e importanti frammentate nelle diverse cartelle dell'organizzazione. Oltre ad avere file sensibili sparsi all'interno di numerose cartelle si sono delineate ulteriori problematiche. In primis quella che è una gestione degli accessi sicura. In secondo luogo le modifiche apportate ai progetti non venivano correttamente documentate e quindi il rischio era proprio quello di avere non sempre disponibile l'ultima revisione corretta del progetto. Infine il workflow approvativo non particolarmente lineare non incoraggiava né la comunicazione né la collaborazione tra i vari dipartimenti aziendali. Abbiamo scelto quindi 3D Experience perché è la piattaforma di Product Data Management e Product Lifecycle Management che si integra di più con le soluzioni SOLIDWORKS già in uso dall'azienda. Il fatto che la soluzione sia in cloud ha inciso molto positivamente perché fa parte di quello che è il percorso di miglioramento continuo che l'azienda ha in mente da sempre. La piattaforma essendo fornita as a service riduce di molto i costi di gestione e di manutenzione hardware fornendo un backup garantito e certificato e ad alta performance. Mi chiamo Andrea Mazzaro e sono progettista di Fratelli Rossetto. Mi occupo di studio di fattibilità, sviluppo e industrializzazione dei nuovi progetti. L'arrivo della piattaforma è stato accolto da me e dai miei colleghi con curiosità attirati dalle potenzialità teoriche che lo strumento può darci. Con 3D Experience si è rivelata la scelta giusta superando tutte le aspettative che mi ero fatto. Per noi progettisti avere la garanzia di utilizzare dati sempre aggiornati e ufficiali ci rende sereni nelle attività da svolgere. Sapendo inoltre che il sistema rende possibile la collaborazione interna alla sede ed esterna, il tutto all'interno di un ambiente di lavoro protetto e regolamentato con accessi e permessi che ci rende più liberi di dedicarci alle nostre attività. Grazie all'adozione della piattaforma oggi il nostro lavoro è migliore perché siamo in grado di implementare in maniera semplice ma estremamente efficace una struttura di cicli di progettazione ottenendo come risultato non solo un ordine delle operatività progettuali ma anche una migliore interazione tra le persone dei vari uffici. È stato ridotto in maniera considerevole il numero di errori e ritardi di progettazione dovuti al fatto di lavorare su disegni non allineati alle ultime revisioni o addirittura mai ufficialmente rilasciati, generando quindi quell'odioso lavoro di controllo, a volte anche retroattivo, che in fase di progettazione è una perdita di tempo temporale ed economica per l'azienda. Ci siamo affidati al Sussystem perché è un'azienda digital del settore. In nuova Makut abbiamo invece trovato un partner tecnologico affidabile e flessibile che grazie al suo team di sales e tecnici con la loro puntuale consulenza hanno esattamente compreso di cosa bisogna da Fratelli Rossetto. Grazie a tutti.